ciao ragazze ciao ragazzi top bentornati in un nuovo video spesa da tantissimo come ne facevo uno mi avete chiesto di fare un video spesa allora siccome anche se abbiamo già fatto le spese che avreste visto sul canale di coppia io ora non so quando esce questo video all'Ocean c'era il sottocosto c'era quindi sono andata all'Ocean e abbiamo fatto la spesa e questo video lo faccio io quindi vediamo insieme lo scontrino e poi le cose che abbiamo preso abbiamo speso 145,77 vi faccio vedere la ferma immagine dello scontrino questa è la carellata dei vari prodotti ora giro e tante cose perché appunto c'erano degli sconti pazzeschi qua vediamo crema pandistelle così guardate super super offerte veramente andate all'Ocean non si vede bene ok ora passiamo ai prodotti allora vi mostro subito queste pizze sono buonissime sono quelle rettangolari della marca Italpizza questa è prosciutto cotto e funghi molto buona abbiamo già assaggiato ve la consiglio questa è 5 formaggi e questa qua invece è al gusto salamino e provolone quindi questa sicuramente piacerà al suo cerino poi fa caldissimo e il gelatino alla sera ci sta quindi i cornetti quello classico algida e questo qua era super scontato guardate lo scontrino poi questo non era scontato però era troppo tempo quando lo mangiavo è buonissimo ragazzi se non ho provato lo sneakers ice cream provatelo perché è veramente qualcosa di stratosferico poi della 4 salti in padella della Findus abbiamo provato quelli dell'MD non ve li consiglio sono stopposi e non hanno molto sapore quindi non prendeteli prendete questi qua originali perché sono veramente i migliori sono buonissimi sono anche al ristorante sono i miei occhetti alla Sorrentina i miei occhettini piccoli comodoro basilico mozzarella sono veramente buoni e questo qua è il prodotto che ho dentro 550 grammi a betta poi della Roberto erano super super scontati i maxi panini per hamburger quelli questi qua con i semi di sesamo e ne ho ben presi in tre pacchetti perché era veramente super conveniente ah questo qua ve lo consiglio è buonissimo della Riki l'erbazzone del fornaio è buonissimo super top questo qua è due porzioni infatti si fa a metà è per due persone ma è veramente buono anche per fare non so magari un aperitivo qualcosa di sfizioso tagliate a triangolini lo servite è buonissimo super super consigliato poi un po' di carcellosità le Kinder Paradiso anche perché comunque vengono qua da in Sala Malica e vogliono mangiarsi queste merendine qua quindi le Kinder Paradiso queste sono da 4 le abbiamo prese 2 poi sempre fresche merendine abbiamo preso questo schiacciato nel trasportarlo i Kinder Choco Fresh due confezioni ce ne sono dentro 5 e sono buonissime una volta si chiamavano Epipo ma veramente sono buonissimi provateli poi le Allo Hacker allora questi qua prima c'erano normale al cioccolato normale sempre al cocco li ho visti al cioccolato bianco ho detto no lo so che sono a dieta so che non dovrei mangiare queste cose però assolutamente devo assaggiarle questi si metteranno sicuramente in frigo perché sennò si squagliano quindi cioccolato bianco cocco diciamo il top del top del top poi della Milka abbiamo preso questi biscotti qua sono tipo i crispy perché dentro vedete hanno la cremina Milka Sensation abbiamo preso due pacchi sono veramente molto molto buoni poi abbiamo preso una serie di tramezzini e con questo Davide farà un mukbang non so quando lo vedete o l'avrete già visto probabilmente due con gamberetti e rucola così vedete due gamberetti e rucola e due prosciutto cotto e mozzarella questa è marca 2A poi i dadi che c'eravamo dimenticati di prenderli perché questo qua il mio suocerino fa un risotto che è una meraviglia e vi ricordo che sul mio canale c'è il risotto lo zafferano con i funghi fatto da mio suocero o con la salsiccia non mi ricordo comunque il risotto fatto da mio suocero cioè la ricetta poi una golosità che ha avuto Davide pan di stelle la crema e carina a me piacevano il barattolo che ci fa delle cose che il tuo pazzo poi vedrete poi questi panini qua della mulino bianco cuore di pane senza crossa questi qua piacciono tantissimo alla Malika e anche a mia suocera erano in offerta e anche a Davide erano in offerta e li abbiamo presi oppure no non mi ricordo comunque li abbiamo presi perché comunque servono per le scorte una cosa e l'altra e top poi questo qua era super scontato tre bottiglie di Lisoform bucato per lavatrice codigenizzante sette euro e qualcosa guardate lo scontrino e abbiamo preso abbiamo fatto la scorta di questo poi nella mulino bianco la candeggina delicata per i colorati questa smacchia veramente che è una meraviglia e non rovina i colorati perché la candeggina normale da questa casa io l'ho bandita perché mia focia la faceva danni con la candeggina quindi questa qui è ottima o questa o l'ace insomma quella che è in offerta ha il profumo muschio bianco e va benissimo lava che è una meraviglia poi lo so che l'avevo preso anche da Primark però mi sa che quello di Primark lo porto indietro perché le misure come potete vedere questo qua è 2 metri per 1 metro 40 e 97 centimetri questo è un materassino a forma di cigno quando andremo in vacanza al mare assolutamente lo porto e quindi è troppo bello 9,90 cioè un super affare era l'ultimo poi tra l'altro rimasto allora ho preso un po' di vestiti di Nipperisman perché fa veramente caldo è cresciuto a vista d'occhio e quindi io ho preso un po' di cose questi pantalonci come se sono garzati quindi fatti nel sudore questi qua vabbè vi faccio vedere anche il prezzo perché tanto fa niente erano scontatissimi veramente è un super affare questi qua i pantaloncini poi questa è una magliettina che ha il suo completo è bellissima c'è il coccodrillo con la palma c'è tutto summer paradise e questo il suo pantaloncino sotto veramente carinissimo mi piace? guardate che carina che è bello poi questo pagliaccetto perché così sta bello fresco col koala little and cute molto molto carino così qua si può anche cambiare molto velocemente poi questo set da 2 di canottiere guardate che bello e questa qua è molto bella con i fiori e poi un'altra fatta così che si può abbinare sempre col pantaloncino blu e si intercambia insomma poi ho preso questa non ho resistito è la prima volta che trovo di frozen a questa misura qua cioè 3 anni vabbè però va bene per elison 2,70 euro cioè non ho resistito l'ho presa poi guardate che schifo cioè rispetto per i nostri colori sta cosa qui del leggete voi te lo spiaggia te lo spiaggia di questa squadra tieni poi questo qua l'ho preso lo devi far vedere bene se l'hanno visto l'hanno visto per vedere poi guardate che pucciosita questo qua delle lol questo qua l'ho preso delle lol è molto puccioso questo qua l'ho preso per fare il roleplay a mario con elison adoro ci sono anche se fa farsi roleplay quindi state sintonizzati poi abbiamo abbiamo preso queste passate di pomodoro della derica e costavano 65 centesimi a bottiglia abbiamo fatto la mega scorta da 12 bottiglie come potete vedere si 3 6 9 12 esatto super conveniente 65 centesimi in una ho trovato la fanta rossa rossa io amo la fanta rossa non la trovavo da nessuna parte ho preso la fanta rossa adoro l'hoshan era da tantissimo il davide è la prima volta che vede l'hoshan e ti è piaciuto si facciamo la paciente l'hoshan io mi trovo bene mi sono sempre anche io andata all'hoshan e ci sono ottimi prezzi e poi il pacco da due questo qua che era in offerta di fanta normale insomma allora mega scorta di pasta vi faccio già vedere qua c'è la muraglia della pasta allora velocemente vi faccio vedere perché era super scontato questo è 45 49 centesimi a mezzo chilo questa qua invece abbiamo preso 79 perché le reginette non erano in sconto così le faremo con ragù allora due pacchi di reginette due pacchi di spaghetti numero 5 spaghetti sono sempre inimitabili poi per le pippe rigate io adoro ne abbiamo presi ben 4 confezioni vedete sono 4 perché sono buonissime secondo me insieme alle farfalle sono una delle mie prossime preferite poi due pacchi di sedani rigati ottimi poi due confezioni di penne rigate poi i maccheroni o tortiglioni io li chiamo maccheroni però va bene dipende dalla casa produttrice a volte maccheroni a volte tortiglioni questi qua due pacchi poi le penne lisce queste sono buone da fare con un sugo di carne ma tipo spezzatino e lo spezzatino lo devo fare da tantissimo quando lo faccio poi le mezze penne le mezze maniche rigate il suo cerino le vuole con il sugo che faccio degli involtini quelli con la panna e salvia e quindi queste qua faremo con panna e salvia questa pasta poi altre due confezioni di penne rigate poi due di sedanini rigati io questa l'adoro questa pasta è troppo buona e per finire due confezioni di fusilli bene amici questa è la video spesa fatto da Ocean con la di Cesano Boscone spero che il video vi sia piaciuto era da tantissimo tempo quando facevo video spesa quindi spero che sia venuto bene come al solito di una semi arrugginita con la video spesa e se vi interessano ancora ne farò altri allora sul mio canale insomma un mega bacione grazie a tutti i nuovi iscritti agli iscritti di sempre se vi è piaciuto il mio video mettete mi piace se siete iscritti iscrivetevi mi raccomando se non vengo appena a casa iscrivetevi anche al canale di Coppa Davide Chiara Channel e al canale Chiara D'Alessandro ASMR un bacio e alla prossima ciao